Ogni Veneto produce 7 tonnellate di anidride carbonica all'anno, un po' meno degli americani che arrivano a 17 tonnellate a persona, molto più dell'Africa dove si producono appena 200 chili all'anno. È la CO2 la responsabile principale del cambiamento climatico che sta già dando i primi segnali devastanti anche nei nostri territori, ha sottolineato il climatologo Luca Mercalli nel corso dell'incontro organizzato dalla CIA di Padova. La grandine di un chilogrammo che è caduta in pianura padana e in Friuli a fine luglio di quest'anno è un qualcosa di assolutamente unico, non era mai successo prima nella storia del clima europeo. Dobbiamo consumare meno in tutti i settori, siamo una popolazione, parlo del mondo occidentale, essenzialmente dissipativa, sprecona, facciamo le cose usando il doppio di quello che ci vorrebbe, quindi energia fossile che viene sprecata, materie prime, rifiuti che vengono prodotti. Quindi c'è intanto una grande cura di efficienza da fare. Dall'altro lato c'è ovviamente anche un aspetto di sobrietà. Bisogna rendersi conto che il mondo ha dimensioni limitate e non è possibile la crescita infinita in un mondo finito. E se da un lato c'è qualche segnale positivo, partendo dalla modifica di due articoli della Costituzione, con l'inclusione dell'attenzione all'ambiente, come ha sottolineato l'ex senatore Andrea Ferrazzi. Dall'altra parte c'è una legge regionale, come quella approvata nel 2017, ricordata come cemento zero, che di fatto non funziona. Se come ricordato il direttore dei consorsi di bonifica del Veneto, Andrea Crestani, solo nella provincia di Padova la cementificazione tra il 2021 e il 2022 è cresciuta di ben 123 ettari, da cui l'appello degli agricoltori a rivedere il provvedimento. Dobbiamo appunto avere un orizzonte, un orizzonte che è fatto di futuro per i nostri figli, per la nostra società e per la nostra terra. Se questo significa rivedere delle leggi che non stanno portando i risultati che si voleva ottenere, è chiaro che noi siamo dalla parte di rivedere queste leggi proprio per preservare quello che è il nostro territorio agricolo, il nostro terreno agricolo e le nostre aziende agricole.